Hello Wonderwood people! Today's tutorial is inspired by Harry Potter! I'll show you how to make a tiny badger! Ciao Wonderwooddini! Il tutorial di oggi ispirato a Harry Potter! Vi mostrerò come realizzare un piccolissimo tasso! Con del bianco ho aggiunto le striature del suo pelo. Con del bianco ho aggiunto le striature del suo pelo. Ho usato un micro glass bag to make the badger's eye. Per fare l'occhio del tasso ho usato una micro pallina di vetro. ... ... Grazie a tutti Grazie a tutti Ho spolverato con glitter in polvere di vari colori And now the resin E ora la resina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti